La ragazza è molto provata per l'accaduto perché la questione è molto delicata, ha molte sfaccettature che speriamo di far evidenziare nel proseguo delle indagini, solo che è una situazione che non si dipanerà, le varie cose da chiarire non sono cose che si chiariscono in qualche minuto o qualche ora, saranno necessari dei riscontri, degli accertamenti che prenderanno anche un termine, un tempo rilevante e per cui solleciteremo anche la Procura in questo senso a svolgere delle ulteriori verifiche e questo posso dirle allo Stato perché è tutto in divenire, è tutto in fieri.